Siamo ripartiti anche quest'anno con i nostri corsi, nonostante le difficoltà legate al Covid, ed è una difficoltà legata sia per noi che dobbiamo organizzare le cose con il Green Pass e con quant'altro di problematiche di materia sanitaria che con questo comporta, sia da parte anche degli iscritti, i quali alcuni hanno avuto paura, alcuni non hanno voluto essere vaccinati e quindi non possono partecipare alle elezioni. Quindi è un anno così molto particolare di transizione. Nonostante questo abbiamo fatto il programma per il primo trimestre, le iscrizioni sono andate direi abbastanza bene perché finora, tenendo conto che in termini normali abbiamo sempre sui 2.000 iscritti, anche oltre, finora ne abbiamo avuti quasi 900 e quindi direi che il numero degli iscritti rispetto al momento in cui stiamo vivendo sono stazionari, non abbiamo avuto un grandissimo calo. In alcune discipline sì, per esempio le lingue, non sappiamo ancora bene perché, ma le lingue forse perché si gira di meno, ecco il Covid si gira di meno e forse non hanno più voglia di imparare, di approfondire le lingue. Invece quelli di letteratura, di psicologia sono andati tutti molto molto bene, quelli delle manualità, lo stesso, ceramica, pittura, disegno, sono andati molto bene. Grazie. Grazie.